E se noi riusciamo, siamo in grado di applicare, di far vivere nella vita concreta delle nostre società concetti che sono alla fine i concetti con i quali ognuno di noi si scontra nella sua vita concreta Luca ha fatto l'esempio appunto della caserna della Guardia di Finanza e delle caserne dei Carabinieri della Polizia torna a casa e credo che tutti ci rendiamo conto che le paure ci sono e fammi rispondere su questa tua domanda che è molto impegnativa, non è una domanda semplice alla quale provo a rispondere così le paure ci sono e sarebbe un errore drammatico se si desse una risposta alle paure sottovalutando nella portata io penso per esempio alla questione migratoria, la risposta alle paure della questione migratoria non è la negazione dell'esistenza di un problema di integrazione la questione, c'è quel film che penso che tanti abbiamo visto come un gatto intangenziale che racconta benissimo come la questione è una questione di guerra tra penultimi e ultimi grazie 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 grazie